a parte i scherzi benvenuti in questa nuova puntata allora prima di andare a fare cose molto grandi ho pensato che ho dovuto fermarmi un attimo e mettere a posto tutta casa allora giusto per farvi vedere ho concluso ho chiuso tutto il giro qua non so se l'avevo già fatto vedere e ho fatto quella piccola parte dove ci sono le canne da zucchero e sono apparsi anche gli squid e ho tolto il villaggio perché era troppo da caricare per questo mondo a quanto pare e quindi ho detto ok basta l'ho tolto e gli animali visto che non c'è più abbastanza spazio verde là sono iniziati a spawnare qui come vedete sono iniziati a spawnare e questi qua mi stanno altamente sui coglioni ma porco perché non posso ammazzarti perché se un bast ma è un maiale immortale bo eccolo bastar muori ma porca puttana cazzo oh ci voleva tanto questa qua ammazza tutti i mob e non ferisce i blocchi questa ammazza si quest'arma questa ma non capisco perché non riesco a colpirli ok probabilmente era quelli lì che non si facevano colpire intanto vedo un maiale che si sta partando con la pecora comunque tornando a noi oggi dobbiamo fare un piccolo sistema per come posso dirvelo in modo semplice per poter fare dei macchinari e delle cose in più prima di tutto ci serve l'handling fuse obsidian 64 poi una volta fatto questo ci serve allora questo qua però prima di quello ci serve il qued e i pillar i pillar ho 64 facciamone un paio di più allora aspetta facciamo così tac ne servono un po' di più 32 vanno benissimo ci servono gli ender flux crystal che più che crystal sono dei pillar effettivamente poi una volta fatto questo abbiamo detto devo rifare di nuovo queste qua perché mi serve eh vabbè però sono un idiota anch'io non ci devo fare così eccoli qua due stack di ender infiuso obsidian una volta fatto questo abbiamo detto ci serve il qued per fare il qued ci serve questo qua col burn quarzo ne ho fatto uno stack intero tanto posso farlo con la con la project e ok andiamo a prendere un diamante ma anche no facciamo così diamond cazzo una volta con la project e il massimo che uno poteva sperare di arrivare era proprio il diamante ora ah no è il contrario cioè una volta uno sperava con la project e di farmarsi il mondo di diamanti facendo tutte le fabbriche possibili di di MC e adesso è lo smeraldo la cosa più che vale di più e per di più neanche io mi sto mettendo a fare lo smeraldo ecco ma mi sono messo a fare lo octable compressed cioè 3 6 21 milioni adesso ci sono devono arrivare a 43 ci arriverò mai si ci arriverò ci arriverò abbiamo detto 4 diamanti e ecco qua il diamond il santo ora mi serve una crafting table ora questo qua mi serve per fare questo ok la crafting table qua e se non ho visto male questo qua perfetto abbiamo il qued quantum energy device ora dove dobbiamo metterlo ho fatto una nuova stanzina dove l'ho fatta l'avete appena vista porca puttana il vetro qua sotto si è una stanza che ho voluto fare in questo modo perché mi piaceva adesso vedrete anche come funziona inizialmente non ero molto bravo a decorare le stanze o pianificarle in modo che fossero anche belle da vedere piano piano ci ho preso la mano no no torno qua no però qui ci stanno bene me ne sono rimaste 4 che cazzo ma si guarda così tutta la stanza piena ora ora abbiamo un po' di ricette che si possono fare col qued che tra cui sono di cottura per lo più però possiamo fare robe come la magnum torch che è carina la ender query upgrade gli ender receiver che sono tipo la come posso dirla la wireless redstone senza la wireless redstone e la cosa che ci serve oggi il transfer node e il transfer node hyper energy se magari riusciamo a uscire perfetto andiamo a prendere aspetta node allora per fare il transfer node ci serve questo qui mamma mia quanta roba lo speed upgrade che ne abbiamo un paio no non è vero andiamo a prendere so che sto laggando un pochino ma non so perchè sta caricando qualcosa di pesante ok ok 17 milioni di emsi allora prendiamo gli speed upgrade perfetto anzi lasciamolo qua per ora poi ci servono i deep fist surf upgrade che si fanno che si fanno oh che coglioni che felicità ehhh andiamo vabbè prendiamola qua redstone il gold che poi lo butto che tanto non mi serve e abbiamo detto utility così me ne basta uno perfetto questo lo buttiamo questo lo buttiamo e anche questi così ora che abbiamo tutta questa roba utility mi serve altra redstone di nuovo qua qua e tutta redstone e facciamo anche questo insegnamoglielo e facciamoci uno stack perfetto abbiamo tutto quanto ora che abbiamo tutta questa bella robina ci servono dei transfer node e il gold che ho appena buttato via andiamola a prendere che tanto ce n'ha il gold è una delle poche cose che siamo veramente tanto troppo pieni tipo anche il ferro pensavo che di copper tipo silver ne avrei avuti di più infatti preventivamente avevo fatto le ceste verdi ma a quanto pare non serve un cazzo quindi ciuccia ora node ne prendiamo un paio di stack e torniamola sotto per fare questo 4 di oro vabbè ascolta facciamo così vado a prendere altri 3 stack di oro che una volta l'oro senza le mod proprio porca puttana il telefono oggi oggi non vogliono farmi registrare vabbè lasciamolo squillare tanto non mi interessa ora non sono in casa 3 e 4 perfetto troppi particellari fanno andare il gioco lento ok no si è ripreso e dai con tutti questi questi cristalli va abbastanza veloce dai allora se siamo troppo vicini ci lagga di schifo ok però per fare l'hyper energy ci servono 4 e il bedrockium per fare questo me ne serve cioè me ne serve solo uno ok io me ne faccio 4 andiamo a a prenderci 4 lingotti di bedrockium fermi non l'avevo chiusa il bedrockium è questo qua si 1 2 3 e 4 pesanti come la miseria non comprendo perchè pesi così tanto anche se sei fatto di bedrockium non comprendo perchè pesi così tanto ne voglio fare un po perchè così almeno dopo poi non mi servono più vabbè intanto che li fa poi diciamo anche che questo lo mettiamo qua così non pesiamo più beh oddio perchè mi son girato di scatto però gli fps saranno un attimo calmati ora via 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 redstone oddio me la tengo volentieri e a te ti faccio una cesta poi dopo ora non c'ho voglia non credo che abbia un valore mc infatti penso che dovrei girarlo dall'altra parte tipo qua infatti tipo qua infatti è più comodo dai ce ne mancano solo altri 17 ho voluto fare una foto perchè è davvero figa potrei quasi pensare di metterne altri ma 6 per 424 più 4 fa 28 ne ho messi 32 32 va abbastanza veloce cioè non penso ci sia proprio bisogno di metterne altri il più ho finalmente 64 ora il bedrockium mettiamolo qui e facciamo quattro di questi beh dai almeno non dobbiamo aspettare tanto penso che dopo questo episodio questa stanza mi servirà veramente a poco però l'ho voluta fare l'ho dovuta fare perchè se no non sapevo neanche dove metterla sta roba e effettivamente è una bellissima stanza oggettivamente mi è uscita bene ora mi servono dei barrel due perfettamente bravo preciso e li mettiamo qua tu qui ops e tu qui ora prendiamo il dolly le mettiamo questo qua e questo qua sopra che bello quando le cose sono precise precise porca miseria inserisci e inserisci perfetto torniamo nella stanza che palle sti telefoni oggi non mi vogliono lasciare proprio stare vi do un indizio sul prossimo episodio inizieremo a fare generatori ed è per quello che mi servivano i node quindi una volta tornati in sta stanza signori vi ringrazio per avermi seguito come al solito se mi avete seguito se volete dirmi qualcosa ditemelo pure qua sotto noi ci vediamo a un prossimo episodio ciao belli ecco qua mi sono chiuso dentro ora nooo nooo ecco qua